Ciao a tutti benvenuti in un nuovo video oggi abbiamo costruito anche da ieri dopo che abbiamo fatto il video che è uscito su youtube abbiamo fatto altre casette che abbiamo fatto ieri queste qui che sono tutte in avanti e le altre le abbiamo fatto oggi e ho portato queste altre lego friends che io ho tutta la collezione e ne ho anche in più però se prendiamo una cosa fantastica perché se togliamo i capelli di lei che c'era più chiaro di questa qua li togliamo a lei e può diventare diciamo a Ariel perché ci assomiglia con questi capelli però nella città allora abbiamo però tanti pubbi tra cui il primo che è tipo videogiochi giocattoli lego questo qua invece è tipo meccanica quello la è invece della polizia qua poi c'è quella eh quelli che prendono le cucciole poi c'è quello di Stefani che ho messo qui il carrietto che si trovava nel set si è bellissimo oh poi abbiamo quello horror e poi c'è il meccanico poi c'è il guerriero e poi c'è ed è bellissimo ed è bellissimo ed è bellissimo poi abbiamo fatto un veicolo bellissimo che è c'è questo che è un materiale che può andare a 3 milioni di 3 milioni di milioni di milioni di milioni all'ora e poi ok e poi c'è una valigetta con cosette e qui una diciamo si guida da solo è il pilota automatico è il pilota automatico e 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